Beh, poco tempo fa avevamo visto i più brutti, oggi vediamo i più fichi. Benvenuti su Watchmoge Italia per una top 10 dei migliori personalmente costumi alternativi, quindi mettiamo da parte tutti quanti i originali, tra cui comunque ci stanno sempre schifezze e cose stupende, indossati dai nostri supereroi preferiti. Ma prima di incominciare, signoresi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la Gabriella... Alla numero 10, Deadpool formazione X-Men, che in realtà non ce lo vorrebbero nemmeno, Ma siccome, visto, no, come fa Deadpool, puoi anche polverizzarlo, come fece Torro, prova anche a fare ciclope in questo caso, ma due molecole di lui continueranno a ronzarti attorno, una punzecchiandoti le palle e un'altra all'orecchio. Posso entrare in X-Men? Posso entrare in X-Men? Posso... Eh, va bene, entra negli X-Men, ma abbiamo finito le tuttine attillate stile Armani, te la devi fare da te. E viene fuori quindi questa, creata direttamente da lui, che se si metteva una di quelle casacche in sintetico quando fai le squadre a cavolo all'allenamento era uguale, forse meglio. X-Men stampato davanti, una pesionata incredibile, il nome sulla schiena come un fio con la sua squadra del cuore preferita. È stupenda. E alla numero 9, Captain di tutto, tranne che dell'America, in assenza del Cap post-Sivil War, ovviamente. Bisogna sceglierne un altro di Cap temporaneo. Una persona quindi possibilmente equilibrata, paziente, scaltra, giusta, come Punisher, per esempio. Eh, mi sembra giusto. Veste i panni del vendicatore degli Stati Uniti, che ci prende un pochino troppo la mano e inizia a vendicare di tutto, senza che se ne senta il bisogno. Al posto che essere capitanata, l'America viene punita del brutto, però lui ammazza anche un pochino di nazistaggi. Vestito con un costume che si fa ricordare, cafonata, senza vergogna, alla bandiera, sostituito il suo fottutissimo teschione oversize, visori rossi, tamarrissimi, teschi sanguinanti sulle braccia. Vabbè, dai. Che vuoi dire? E alla numero 8, Raven, versione New 52. Lo stile di Raven, neo-dark, è sempre stato uno dei miei preferiti nel mondo dei fumetti, anche perché poi, a guardare gli altri Teen Titan, non è che brillino molto per estetica, Starfire per Diana sembra una super kick. Ecco, svolta, oltre il costume da affascinante stregona originale, la sua reinterpretazione del reboot del 2011 della DC, New 52. Però per me è una gran ficata, si veste da sexy rapace avant-garde, con quel pezzo sul capo mezzo maschera, mezza pura estetica, molto retro-futuristico cyberpunk da sfilata di moda del 4000, che, se vi devo dire, mi sconfinferà assai. E alla numero 7, il cap in versione super soldatino. Nel momento in cui lo Stewie non è il cap, ma comunque mena lo stesso, come un fabbro in quanto direttore delle operazioni sul campo dello Shield, e anche soldato factotum da mandare uno contro tutti al massacro dei nemici, ovviamente, quando ve ne sia la possibilità. Il suo costume da semplice super soldato è la versione alleggerita del costume stile classic, ma con un grande design. Se ne va il caschetto, lo spallaccio e i cinturoni, e il resto però rimane una bellissima tuta di un blu elettrico misto sulle cosce a rosso sgargiante, molto USA, USA, gridato a pieni polmoni, iperatletica, iperestetica. E alla numero 6, la cara vecchia Hulkbuster. Non mente mai, Tony per la verità ha un'armatura per ogni occasione e ogni nemico. La sua tattica è prima pigliore botte come un salame, ma prendo appunti e la volta dopo mi ripresento preparato. Questa è quella che viene fuori dalle botte prese da Hulk, da mettersi a punto, oppure da guidare il remoto dentro a un'altra armatura, se non si ha troppa voglia di prendere sacco di sberle, quando Hulk ulcheggia non dalla tua parte, ma è in uno di quei suoi cinque minuti di follia, Hulk spacca, Hulk grosso, Hulk muscoli, e devo essere tenuto a bada. Mix perfetto di utilità e stile casa Stark indimenticabile. E alla numero 5, l'armatura Hellbat di Batman, erpipistrozzi infernale. Quella per far capire agli altri che non sei arrivato per fare quattro chiacchiere. Quando devi spaccare molteplici culi, e nel mentre vuoi che il nemico si cambia anche il pannolino ogni due secondi, l'abbinata di colori può essere usata. È una e solo una. Nero, morte, violenta, cromato, e rosso sbudellamento fluorescente sul petto e sugli arti. Come se fossi un minchia di cyborg fatto di odio e magma. Difatti è stata creata da Superman dentro al sole. Vabbè, esagerazioni su esagerazioni, se la usi troppo ti ammazza anche, ma tranquillo che vinci prima, ci fai gli uno contro uno con Darkseid. È probabilmente una delle cose più OP mai viste. E alla numero 4, Tempesta in versione panchettona. Tempesta è sempre stata una delle mie preferite, con quel suo look sbarazzino, misto però a una scelta di abbigliamento eterea, alle volte elegante e perfino serena. Tutto il contrario di come fa a diventare il cielo quando si incazza e scende sul campo di battaglia. Quasi quasi però, questa gli si addice di più. Crestino fichissimo, è la sua versione HACAB, fact system, never slave, riottosa ma altamente estetica, da finta cattivona, sexy badassona. In realtà, dall'animo gentile, allo stesso tempo ci piglia a botte ciclope come fosse un poveraccio che ha imparato l'altro ieri a fare il supereroe. Medica. E alla numero 3, Superman risorto, che lì per lì potrebbe sembrare soltanto una scelta estetica, invece è tutta utilità. Nera in modo da assorbire più radiazioni solari e guarire in fretta dalle ferite post combattimento con Doomsday. È fortissima, ma allo stesso tempo strizza anche un pochino l'occhio a quello stile che, parliamoci chiaro, Superman non ha mai avuto e gli altri sì, sempre invidiato sotto sotto, quindi ora può osare anche lui. All black and white sembra un po' un misto tra Punish e Raction Man. Il capello mallet davvero birbante anni 80 è non solo discutibile ma anche punibile dalla legge, direi il resto però è stupendo. E alla numero 2, il costume marrone di Logan. Allora, so che sono sempre stato a insultare i costumini da acrobata circense di Wolverine, ma come si fa davvero? Si mette addosso certe porcherie che non mi interessa se siano diventate iconiche nei perché, fanno cacare. Però, a onor del vero, questa unica versione dell'originale alternativa, giallo con uno spruzzo di marrone rosso mattone, disegnata da Miller per la prima serie di Wolverine in solitaria, dopo averla vista però in un episodio di Uncanny X-Man, è una bella copiata di colori, originale, ci sta da dio. Certo, la versione poi col cappuccio da teppistello, tipo Felpona, io io, della FUBU, illegale, veramente, ma facciamo finta come se non avessimo visto niente. E alla numero uno, la tuta nera, quella dannata tuta nera, cioè, è la tuta nera di Spider-Man, vista in Secret Wars 8 per la prima volta, e non penso ci sia molto da dire, per il resto si parla di gusti personali, ma se non ti piace la tuta nera di Spider-Man, è grave la cosa, se insulti la tuta nera di Spider-Man, non insulti tutta New York, insulti tutta la storia del fumetto a colori supereroico occidentale, e semplicemente, è la tuta nera di Spider-Man, c'è un prima e un dopo della tuta nera di Spider-Man, la cattiveria rancorosa e giustiziera che trasuda, dalla sua linea elegante e slanciata, è inarrivabile, se non ti piace, non è un problema mio, è la tuta nera di Spider-Man!